un saluto a voi che ci seguite su fomobiles.info primo avvio di bq aquaris la procedura è la stessa sia che voi abbiate la versione m4.5 che la versione m5 vado inserire la password ok una volta che inserite la password della vostra rete wifi viene acquisito l'indirizzo e come sempre viene verificata la connessione per andare a collegare quello che il vostro account google da qui poi dovreste essere in grado di ripristinare il backup sul telefono precedente su altri telefoni quindi io ho avuto un po' di difficoltà per quanto riguarda la rubrica sull m5 vediamo se avendola utilizzata già sul 4.5 non avrò problemi direi che ci possiamo fermare qui senza farvi vedere tutta questa cosa un po' tediosa vedete adesso mettiamo l'account google e procediamo un saluto da fomobiles.info grazie a tutti grazie a tutti